le hai mai provate persona platinum platinum rivestite andranno bene su sto barbone ma più che altro come si comporteranno subito dopo la sigla t'avrà un po anche stancato sto subito dopo la sigla però va bene uguale allora ben ritrovato oggi parlo con tono più basso che c'ho leggero mal de gola c'ho avuto la più grande che c'ho avuto raffreddore raffreddore ce l'ha passato e quindi di conseguenza adesso sto adesso ce l'ho io allora persona persona la mette persona fabbricate prima in america poter qua poter adesso in germania made in germany platinum rivestite rivestite per quale motivo perché rivestimento va a preservare il la lametta stessa che se potrebbe in qualche modo rovinare con gli agenti atmosferici ma più che altro per una scorrevolezza in più infatti i rivestimenti di solito si danno le lamette per farle scivolare un po di più stiles e senza niente così come viene fatta e invece le platinum quelle al teflon servono per migliorare la scorrevolezza beh oggi lo proviamo te faccio vedere subito cosa vado utilizzare eccetelo qua guarda che bella è che bella componente che ho fatto pre barba oggi non me lo faccio manca mi dispiace ma per me in alcuni casi è utile e quando ancora c'è il viso non del tutto pronto secondo me l'aiuto te lo dà ma secondo me è rasoglietto marvel della fine bello pesante bello massiccio scusa la voce ma non sto veramente in forma poi abbiamo il platinum finalmente il platinum perché io vado matto per questo cioè però questa profumazione che ricorda è ispirato a creed aventus è qualcosa di magnifico il dolce stil nuovo della rasatura proprio c'è l'eleganza che dolce l'eleganza la raffinatezza la mascolinità capito alessi proprio bello ti fa sentire bello pure se non sei bello niente bello con questo allora andiamo subito a vedere c'è poco da vedere comunque ormai conosciamo la nuova linea di produzione della della fine eccolo qui logicamente parliamo di un sapone tallovato tallovato cercando di fare i miei i miei passi esperimenti allora che succede andiamo aprire la lamettina vediamo un po com'è scusa ma dovete ogni tanto dovete come se fosse un ecocardio gramma che mi fa capire se vado troppo su o vado troppo giù allora pacchettino che come al solito ogni volta che vai aprire qua stile malboro anni 90 non si apre mai te tocca scartare stava di un'altra cosa tocca a scartare completamente in modo brutale vivo il la confezione allora che troviamo porta lamette esauste quindi quando le finisci inserisci qua dentro e sta buono così per lo smaltimento delle lamette ogni comune ha una sua politica in alcuni casi la mette anche se so diciamo messa dentro un barattolino e le vorresti far smaltire in certi casi passano per rifiuti speciali e purtroppo non vengono riciclate è un peccato però noi utilizzatori di lamette da barba queste qua produciamo meno plastica quindi già questo un vantaggio in più allora te faccio vedere importante recupero qui e andiamo a vedere insomma graficamente non è che siano proprio cambiate ma bisogna vedere come vanno con le persone mi sono sempre trovato abbastanza bene devo dire un ottimo taglio piacevoli e si posizionano secondo il mio gusto subito dopo le federa e le gai secondo me allora rasoietto marvel buono anche per il neofita però come dico sempre di sempre presta un po d'attenzione hanno delati neanche perché penneofita no neofita che fa capire come potrebbe essere la rasatura tradizionale c'è proprio qua fastidio tutto un manco d'immagine allora eccole qui vediamo un po che è successo morbidissime morbidissime non ci sono tacche di cera quindi non sporcherà il rasoio che è un punto a favore secondo me eccola qua platinum chrome chrome potrebbe significare che all'interno c'è il metallo contiene appunto del cromo che la rende un po più morbida anche perché spesso alcuni nomi vengono dati giusto così per darli non è che ci hanno proprio dei riferimenti veri e propri però dovrebbe avere una percentuale di me fa strano parla così basso ecco qua allora come ho detto prima mi sciacquo il viso e mi metto subito il dove o glory pre barba fantastico tanto come avrei visto no c'è il 400 nero che massiste oggi allora pre barbino si pre barbino no ognuno c'è la sua scuola di pensiero io c'ho la mia e ripeto in alcuni casi a me la mano la dà poi posso essere tutte fesserie c'è chi dice non c'è bisogno ma stengo ma stengo non mi interessa proprio eccolo qua poi fuori è una giornata nera proprio nera grigia sta piove ma voglio rilassare un pochettino sembra che registra sembra che sta registrando e purtroppo ogni tanto mi capita che poi ho fatto il fail audio non mi piace e lascio questa la telecamera sta diventando malattia per me allora vado subito ad aprire il nostro saponcino eccolo qua bello forte profumo bello forte elegante perché veramente elegante il platinum è una delle mie fragranze preferite cioè io questo lo utilizzerei tutti i santi giorni certo dopo un po normale che te stanca la stessa profumazione ma veramente ottima mi piace da morire guarda allora metto un goccettino di acqua parliamo comunque di una pasta morbida e quindi un pochetto d'acqua così va più che bene non non eccede mai con l'acqua dentro ai fine perché non serve pennellino che a me veramente mi fa un pazzì ricordo sempre che questo è alluminio pieno quindi se lo lasci così sfonda te lo sfonda te lo sfonda proprio allora che succede ma sì dai c'è un po ogni tanto in saturazione c'è va che senti che tranquillità che c'ho dentro casa la più grande sta a scuola il piccolo sta a dormire e l'altra sta a guardare i cartoni la pace la pace voglio dire perché sennò mazza senti qua come va allora cioè potrei pure fare tranquillamente potrei fare una razzatura senza però visto per sapone c'è l'ho perché no allora vado vado subito vado subito scolo la pasta giretti di persone speriamo che si senta che c'è l'ho ste persone chissà come saranno boh io non lo so tu che poi sta a vedere che addirittura vengono viene da una tradizione molto lunga addirittura mi sembra dalla gem magari qualcuno di voi c'è Lara, sono io della gem io ce l'ho lev, lev, lev ev ready un monolama è una metta molto spessa che saponaccio mamma mia un saponaccio proprio logicamente scherzo è un ottimo sapone va per carità ah vedete un po' può essere pure che qualcosa l'ha preso allora pennello lo lascio qua giusto a dimostrazione di quanto resiste il sapone e andammo a provare guarda che bel profilo che c'ha chi è appassionato da eri magari riconosce qualche cosa di particolare profilo forse dell'Ala non è proprio così però un po' mi raccomando sempre con estrema caudela magia tanta magia ti posso assicurare che vanno veramente bene almeno in fase di pelo molto bene io come norma faccio vero e contro vero non mi limito a far soltanto il pelo anche che non c'è un senso secondo me perché c'è la barba sotto è come meglio non fassero a sto punto però vabbè pure lì vabbè che me frega se vive lo stesso ma c'è un bel taglio complimenti bello 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 devo soltanto non tagliarmi il baffo per quello vado un po' di lo sono pure pizzicato hai visto? hai visto che è successo? aspetta tu voleva un pochetto di sapone perché è veramente veramente molto scorrevole il tutto oggi è scorrevole vanno 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 bene almeno per me vanno benissimo un buon taglio a parte che non l'ho proprio percepito quindi a maggior ragione è buono anche per quello rivedo gli aiutini servono uno se la gode di più non la sbarbata che dice che uno se deve massacrar per forza ti piace? a me non mi piace non lo faccio ho aggiunto solo dell'acqua quindi non si è svampato ora ce ne metto un altro po' di acqua perché per me più è meglio è chi è? non stresso più tanto non vado a fare troppi troppi giri e vado sereno e contento che bello guarda a me servirebbe intermo cammino posto a posto ciao oh parla persona una volta si diceva parla agnese dai su può andare più che bene anche se il marvel non è proprio un rasoio profondissimo ma il suo lavoro lo fa taglia i peli li taglia non ti preoccupa ma voglio qua sotto mi sono proprio mi sono aperto vedi beh che di allora ma a parte la la fragranza del sapone è qualcosa di spettacolare il taglio di questa lametta è veramente ottimo molto 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 piacevole senza grande difficoltà bene ecco voi dire ah oh è questo allora taglio è piacevolissimo queste vanno bene anche su un rasoio un po' più spinto secondo me fanno un ottimo lavoro veramente un ottimo lavoro ho sentito che qualcuno si era lamentato perché dice che non non andavano sinceramente vanno e come vanno e come mette le sciacquole oh so easy veramente so easy devo prendere l'accappatoio perché mi sono dimenticato l'asciugamano allora che devo dire scorrevolezza molto molto buona molto piacevole il taglio molto ho esamputato qualche pezzo di baffo tanto per cambiare ottimo lavoro veramente ottimo lavoro vedete sto cercando a qualche punto che non sono andato bene ormai i versi del viso qua sotto mi sono sfragnato solo qua dai vabbè può capitare allora in conclusione la mette veramente buone veramente buone sapone inutile che te devo di sempre che so buoni per me è ottimo la fragranza poi ripeto è quella che mi piace di più in assoluto a maggior ragione so troppo di parte e per quanto riguarda il pre io ci farei un pensierino se hai dei saponi che più da tanto non ti danno in termini di scorrevolezza è quello l'importante poi uno può fare pure a meno perché non è obbligatorio però quest'anno pre e pre pre che ti aiutano nella lubrificazione e pre che ti aprono i pori e ammorbidiscono il pelo quindi io pensiero a questo mamma mia quanto è buono mamma mia quanto è buono poi capito quando metto questo poi è garantito che mi dice mazza che bel profumo non mi dice mi sembri il mio nonno quindi niente io adesso mi lavo i miei strumenti è una sbaravata molto tranquilla molto pagata molto rilassante spero che io sia riuscito a catturare l'audio come se deve stavolta perché ce tengo e niente quindi se ti piacciono le profumazioni forti come questa che ti ho spiegato adesso il platinum è il tuo proprio il tuo pensa che metto in classifica lui caster forbes il 1445 e poi gli altri di cofella smile che sono il formula t che a me piace come profumazione il solo mi piacciono quelle profumazioni così particolari ma a breve quando mi ricresce la barba ti devo parlare di un altro profumo nella cerchia di isamone da barba che a me veramente fa impazzire pure quello ancora non te l'ho fatto vedere quindi devi pazientare un pochettino e noi ci vediamo al prossimo video e come dico sempre buoni acquisti buone sbarbate mi raccomando ci vediamo al prossimo video tra qualche giorno ciao cazzo quanto mi sento maschio ma che me vuoi dire ma che me vuoi dire ciao